Mi dispiace, mi dispiace per il suo comportamento, perché è un ragazzo perso, è un ragazzo perso purtroppo, perché ormai ha 30 anni quindi non riesci più a recuperarlo. Commenta più come madre che come poliziotta la pena inflitta dal giudice a uno dei suoi aggressori, il marocchino Hamed Fagrush, un anno e mezzo e 800 euro di multa. Le ha sferrato pugni in faccia mentre un altro la colpiva al fianco. L'assistente capo Margherita Buttarelli, in forza, è proprio il caso di dirlo, alla questura di Rimini, era fuori servizio il pomeriggio del 29 novembre scorso, quando intervenne al Parco Cervi, vedendo tre uomini che infastidivano tre donne russe. È stata un'esperienza non piacevolissima, anche perché quello che avevo di fronte, che mi ha dato i due cazzotti in faccia, poteva essere mio figlio, perché ha neanche 30 anni. Io ne ho un figlio di 25 e ho 49 anni, insomma, e la cosa mi ha fatto molto molto male, perché mio figlio è una bravissima persona, un ragazzo che adesso andrà in Inghilterra e si iscriverà all'università, quindi insomma, gli abbiamo insegnato le regole e il rispetto. Sì, a un certo punto ho avuto paura, perché la paura è umana, anzi, penso che la paura in certe situazioni ti salva. Poi mi muta rabbia, sinceramente, oltre alla paura. Nei giorni scorsi, nella sede del Circolo Canottieri di Roma, è stata nominata ambasciatrice del Telefono Rosa, la massima onorificenza che l'Associazione Nazionale conferisce a chi si impegna nella difesa dei diritti delle donne e dei bambini. Sono rimasta molto contenta, ero felice, perché comunque, insomma, è stato un riconoscimento, nel senso che, ma l'avrei fatto anche da cittadina, il fatto di reagire, quindi a parte essere poliziotta, il mio 5x1000 andrà all'Associazione Telefono Rosa, perché hanno bisogno sia di volontari e, purtroppo, di soldi, perché comunque si devono mantenere. Tantissimi colleghi immediatamente mi sono stati vicino, ma di tutta Italia. Mio merito mi ha detto che prima o poi qualcuno mi avrebbe menata, perché c'è un bruttissimo carattere. Io odio l'indifferenza. Penso che essere indifferenti sia uno dei mali peggiori, perché se una persona ha bisogno di aiuto, tu la devi aiutare in quel momento, soprattutto se sei una poliziotta. Quindi, per me, indossare questa divisa è un onore, nonché è un dovere.